Gli uomini dovrebbero imparare a essere nudi e belli, allora non avrebbero più bisogno di soldi. Questo è l'unico modo per risolvere il problema industriale, insegnare al popolo a vivere e vivere in bellezza senza bisogno di spendere. Ma non si può fare. Ai giorni nostri non ci sono che menti ristrette e servono i soldi. I soldi ti avvelenano quando li hai e ti fanno morire di fame quando non li hai. Non mi piace pensare troppo a te perché ci scombussola entrambi. In realtà ho paura. Sento il diavolo nell'aria e cercherà di prenderci. Sento nell'aria delle grosse mani bianche e avide che tentano di afferrare per la gola e di strozzare chiunque cerchi di vivere, di vivere al di là dei soldi. Ma non importa. I tempi brutti non hanno mai estinto i fiori e neppure l'amore delle donne. perciò non potranno estinguere il mio desiderio di te e neppure il lumicino che c'è fra di noi. Non ci si può assicurare contro il futuro. Si può solo credere nella parte migliore di noi stessi e alla forza che c'è al di là di essa. Perciò credo nella piccola fiammella che c'è fra noi. Per me è l'unica cosa che conta al mondo e non la lascerò estinguere dal respiro della gente. E quando verrà la nostra unione, potremmo rendere la fiammella splendente, gialla e splendente, ma non adesso, non ancora. Adesso è tempo di essere casti. È così bello essere casti, come un fiume di acqua fresca nella mia anima. Ora che scorre fra noi, amo la castità. Bene. Tante parole perché non posso toccarti. Se potessi dormire abbracciato a te, l'inchiostro rimarrebbe nel calamaio. C'è talmente tanto di te qui con me, che è un peccato che tu non sia qui davvero. Ma una grandissima parte di noi è unita. E non possiamo fare altro che attenerci a questa realtà e fare modo di incontrarci presto. John Thomas augura la buonanotte a Lady Jane, un po' a testa bassa, ma con il cuore pieno di speranza.